Musica Alla mostra per i 30 anni della direzione investigativa antimafia in corso a Lecce questa mattina è arrivato il direttore della DIA Maurizio Vallone che spiega questa deve essere l'ultima generazione di mafiosi da domani scatta l'obbligo di Super Green Pass nei luoghi di lavoro per gli over 50 chi non esibisce la certificazione verde rafforzata rischia il blocco dello stipendio oggi è San Valentino la festa degli innamorati e di chi si vuol bene fiori e cioccolatini sono il regalo per Antonomasia sarà ancora così? lo abbiamo chiesto ai baresi Ancora insieme per un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud in apertura andiamo subito a Lecce dove la DIA celebra il trentennale facendo tappa in Puglia con la mostra itinerante allestita al castello Carlo V nella nostra regione la mafia assume nuovi connotati più stragista con un atteggiamento più imprenditoriale da colletto bianco sentiamo Gianni Sebastio ha fatto tappa a Lecce nella splendida cornice del castello Carlo V la mostra itinerante della direzione investigativa antimafia un evento nazionale quello dell'FBI italiana fondata dal giudice Falcone nel 1992 tutto ciò per celebrare i trent'anni di attività alla presenza delle maggiori autorità è stato il prefetto di Lecce Maria Rosa Trio a tagliare il nastro dell'esposizione che ha preceduto il convegno dal tema traffico di esseri umani e criminalità internazionale partito in Sicilia a Palermo il tour della direzione investigativa antimafia ha attraversato la Calabria per fare tappa a Lecce e prossimamente in Puglia a Bari e a Foggia a fare gli onori di casa il direttore della DIA Maurizio Vallone e la responsabile della sezione di Lecce la dottoressa Carla Durante abbiamo trasformato le nostre capacità investigative, le nostre capacità di intelligence quello che ieri facevamo con intercettazioni telefoniche, poi ambientali, poi Trojan e poi con i pedinamenti satellitari oggi lo facciamo anche nel mondo del metaverso la nuova frontiera del riciclaggio della criminalità organizzata dobbiamo sempre adeguarci ai tempi perché le mafie vanno sempre correndo vanno sempre avanti perché approfittano dei loro giovani ramponghi che vanno a studiare nelle università più prestigiose del mondo o di soggetti che riescono ad avvicinare o autonomamente si avvicinano a loro per offrire miglioro professionalità in questi campi per finire la mafia in Puglia bisogna tenere alta la guardia sappiamo quello che sta accadendo in Terradauna e nelle altre zone della nostra regione qual è la situazione? Allora la situazione in Puglia è un po' la situazione di tutto il territorio nazionale la mafia sta attraversando un periodo cosiddetto di mimetismo abbandonando i vecchi metodi aggressivi e stragisti per abbracciare un atteggiamento più imprenditoriale da colletto bianco quindi anche in questo il nostro compito è quello di individuare e di stanare i mafiosi il bollettino epidemiologico della regione Puglia 2238 i nuovi casi di positività nella nostra regione su 27.842 test giornalieri 15 ancora alto il numero delle persone decedute 96.359 invece gli attualmente positivi in Puglia 805 le persone ricoverate tra le aree non critiche le terapie intensive della nostra regione e proprio in tal senso nelle ultime 48 ore è in calo l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nelle terapie intensive di Puglia secondo il monitoraggio dell'Agenas dal tasso del 14% di venerdì si è passati al 12% delle scorse 24 ore si riduce anche la pressione nei reparti non critici il tasso di occupazione dei posti letto è passato dal 26 al 25% intanto domani scatta l'obbligo di Super Green Pass nei luoghi di lavoro per gli over 50 a chi non esibisce la certificazione verde rafforzata quindi con il vaccino booster rischia il blocco dello stipendio Francesco Manigrasso il prezzo da pagare è salato senza vaccino restare senza stipendio per 4 mesi fino al 15 giugno giorno in cui scadrà la misura che con tutta probabilità non verrà prorogata chi entro domani però compirà i 50 anni di età e non avrà completato il ciclo vaccinale o di avvenuta guarigione dall'infezione sarà considerato assente ingiustificato vale a dire una multa dai 600 ai 1500 euro oltre appunto a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi il mancato possesso per 4 giorni anche non consecutivi del passo attestante l'obbligo fa scattare a partire dal quinto giorno la sospensione dal servizio e dallo stipendio questa si spera sia l'ultima stretta non sarà più sufficiente insomma effettuare tamponi rapidi o antigenici per accedere a uffici o luoghi di lavoro anche per i datori di lavoro che non controlleranno il super green pass sono previste sanzioni salate che variano dai 400 ai 1000 euro la misura si sa non è nuova nonostante il calo dei contagi ed è prevista nel decreto 1 del 7 gennaio scorso le aziende potranno effettuare le verifiche come fatto finora con i green pass base tramite il sistema green pass 50 più messo a disposizione dall'inps e già in uso da più di 10.000 aziende italiane nello scorso 7 di febbraio anche chi è esente dal vaccino per motivi di salute potrà essere controllato poiché la certificazione di esenzione è stata digitalizzata il sottosegretario alla giustizia Anna Macina questa mattina a Taranto per visitare il carcere il giro, il tour all'interno della struttura si è concluso pochi minuti fa ci aggiorna Gianmarco Sansolino in diretta da Taranto Gianmarco si, buon pomeriggio ci troviamo dinanzi al carcere di Taranto dove questa mattina è arrivata la sottosegretaria alla giustizia l'onorevole Anna Macina per fare il punto su una situazione grave da tempo in parte per la carenza di organi con Nosa ma anche per il numero dei detenuti che è sostanzialmente vicino al doppio di quello che potrebbe questa casa circondariale contenere diverse le sigle sindacali che hanno avanzato numerose richieste per problemi che evidentemente in qualche modo devono essere risolti anche perché se ne parla ormai da troppo tempo facciamo il punto con Angelo Sciabico dell'Osap quali sono in particolare i focus che avete sottoposto alla Macina? Assolutamente sì, c'è un sopravformamento però prima di iniziare vorrei precisare che è un cartello sindacale quindi fa parte, fa oltre Angelo Sciabico dell'Osap dell'Osap ci sono altri delegati sindacali che c'è la CES, c'è la UIL, c'è il CNPP, USPP e il SINAP raggruppiamo la maggior parte dei rappresentanti della Polizia Penitenziaria il sovraffronamento di Taranto è l'istituto che a livello nazionale ha il 170% in più di detenuti e quindi con l'apertura del nuovo padiglione che ci era stato promesso sia dal capo del Dipartimento al capore personale e dal provveditore l'invio di almeno 45 unità prima dell'apertura del padiglione questa parola non è stata mantenuta quindi noi abbiamo già manifestato la settimana scorsa abbiamo fatto una bella manifestazione qua davanti all'istituto adesso stiamo investendo il provveditore e abbiamo fatto la stessa domanda al sottosegretario della giustizia che attualmente sta in conferenza nella sala convegna all'interno dell'istituto che ancora non ci ha dato nessuna risposta perché sta parlando con altre sigle sindacali che non hanno partecipato con queste sigle alla manifestazione Bene, grazie per il momento è tutto a voi la linea i prossimi aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni Grazie, grazie a Gianmarco Sansolino e ai suoi ospiti una breve di cronaca ai militari della compagnia di Manduria della Guardia di Finanza di Taranto hanno sequestrato nel comune di Sava un impianto sportivo costituito da un campo da calcio un prefabbricato adibito a bar un campo sportivo per il gioco da padel e un parcheggio privato in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Taranto perché secondo l'attività investigativa l'area in cui insistono gli impianti sarebbe stata consentita esclusivamente l'edificazione di manufatti adibiti ad un uso agricolo e zootecnico invece saranno processati tutti i proprietari di imbarcazione finiti sotto inchiesta dopo il sequestro di un molo nel porto di Savelletri siamo nel Brindisino occupato da ormeggi abusiti e gestiti a quanto pare da un pregiudicato ci aggiorna Gianmarco Di Napoli Sono stati tutti rinviati a giudizio con l'accusa di aver occupato abusivamente il molo di Savelletri gli 11 indagati nell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e che nel novembre 2019 portò al sequestro del braccio di Levante del porticciolo fasanese l'indagine nacque dall'arresto per tentata estorsione di Paolo Ferrara detto Magnum noto personaggio del contrabbando che aveva assunto il controllo del molo obbligando i proprietari di barche a pagare per ormeggiare Savelletri nell'inchiesta finirono a loro volta anche questi ultimi perché usufruivano senza averne titolo non solo dell'ormeggio ma anche dei servizi come energia elettrica acqua e posizionamento di corpi morti le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi appurarono che dal maggio 2018 la gestione dell'area era passata nelle mani di Ferrara il quale incassava circa 500 euro al mese per ogni natante ormeggiato nei suoi confronti le fiamme gialle seguirono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione ma nei guai finirono anche gli stessi proprietari delle imbarcazioni tra cui due consiglieri comunali di Fasano che avevano accettato di versare le somme pur nella consapevolezza secondo gli inquirenti di occupare abusivamente il molo di Savelletri al termine dell'udienza preliminare il gruppo di Brindisi Maurizio Sasso ha rinviato a giudizio per occupazione abusiva di spazio demaniale sia Ferrara che i proprietari delle barche la data del processo deve essere ancora fissata e oggi è San Valentino la festa degli innamorati di chi si vuole bene fiori e cioccolatini sono ancora il regalo per Antonomasia abbiamo mandato il nostro Francesco Saccente a chiederlo ai baresi vediamo sono diverse le storie che legano San Valentino agli innamorati la prima dice che durante la prigionia Valentino si fosse innamorato della figlia di un custode della prigione un'altra leggenda dice che fu il primo a celebrare l'unione tra un legionario pagano e una giovane cristiana altra storia ancora quella che narra della sua capacità di riconciliare due innamorati portando loro una rosa sta di fatto che ogni anno il 14 febbraio resta il giorno dedicato all'amore in tutte le sue forme e c'è ovviamente chi non rinuncia a omaggiare il proprio partner con il classico dei classici ovvero fiori e cioccolatini ma sono ancora in voga? la rosa rossa vince sempre la rosa rossa a gambo lungo è sempre la regina non c'è età per l'amore quindi partiamo dai ragazzini dei 15 anni fino a salire ai signori con una buona data di matrimonio in particolare una vendita di 200 rosse rosse è un signore anziano per la moglie gran bella cosa è divertente un bouquet fatto con ortaggi fatto con gli ortaggi di stagione la melanzana, la zucchina gli ortaggi vari di stagione anche questo è amore rosse rosse, non poteva essere altro sì sì, anch'io rosse rosse e ho preso una confezione di rose cosa ti ho regalato, amore? è un ciondolo per il bracciale una cucina nuova questo San Valentino abbiamo anche per me, però un posto tutto nostro per, diciamo, passare una serata romantica con tutti i cioccolatini verissimo, confermo una canzoncina una foto Spotify sì, bella un pensierino simpatico e questo è il mio regalo a Bari a Bari noi siamo di Milano tutti a Bari dopo la pubblicità le notizie dal territorio restate con noi grazie a tutti Grazie a tutti.